musica 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 praticamente basta sequestrare tutta la famiglia del magistrato e questo farà in modo di occultare ogni prova a suo carico perché non esiste che non devo entrare io sono la mamma madonna mia mamma io sono la mamma mamma vado di mamma ti ho portato il te ma non lo vedi che sto facendo l'esame con il professore mi scusi professore questa mia mamma è sempre la so di inopportuna ma quale inopportuna ma non vedi che sta sciupato e devi mangiare professore ditele pure voi che sta sciupato professore ditele pure voi che sta... professore ma quello non va ma mamma va piacere scusate ancora professore è che mia mamma è fatta così ascolta mamma prenditi il vassoio e vai fuori che il te lo prendo dopo musica M U mi tremano le gambe senti che vuoi da noi quello noi siamo stressati che il nostro numero è difficilissimo per favore mi guardate mi hanno due robe e toglie e toglie adesso 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 vabbè facci vedere il numero vediamo il numero siate pronti? si siete pronti? si dammi un cazzotto dammi un calcione dammi una M dammi una U dammi le P che non mi muovo più trattami male non mi w strazzami il cuore e sarai tu ma questo è il pezzo che che ne hanno? si lo sto preparando da mesi bella 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 minchiata ahahahahahahahahahahaha ma sti caponi ignoranti ma che ne capite voi di spettacolo? ahah ahah laisa minelli L'esaminelli, prego, l'esaminelli, lo vedete che siete soltanto degli ignoranti? Papi, facciamo vedere un po' nel pavessino qua, che siamo capaci di fare? Vai! Siamo pronti? Porle, mamma, bello di mamma, prenditi il tè, adesso che è caldo. Eh, ho capito, però mamma il tè ce lo prendiamo dopo al bar, ce lo prendiamo. Che ha detto? Al bar, al bar, e io sono venuta da bitonto con il tè fatto con i limoni di tuo padre per far andare a prendere quella schifezza al bar. Va, 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 va. Vabbè, mamma, dai, ora ti sei offesa, mamma, dai, vieni qua, mamma. Scusate, professore, questa mia mamma è un po' così, la vuole sempre vinta a lei. E allora dai, ce lo prendiamo questo tè, mh, quanto è buono questo tè, guarda, ma lo sto prendendo il tè. Fate pure. Che vuole avere la mezza? Cafone, noi ci facciamo conoscere. Devi offrire al professore. Professore, assaggiate questi biscotti. Questi sono fatti da me. Posizioni. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Lupara. Omerta. Pizzo. Acido. Pilastro. Tangente. Padrino. Sequestro. Galera. Minacce. Lobby. Pentito. Glitolo. Picciotto. Cunutu. 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 Superboss. Cunutu. Ok, picciotti. Ora noi dobbiamo fare meglio. Ricordatevi che si parte sempre da Lupara. Fate attenzione alla differenza tra pizzo e tangente. e nel finale due volte con Nutu. Fatelo bene o vi gambizzo. Mafia Giure. Pizzo. 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 Dice. Cunutua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.